Buongiorno, vediamo oggi cosa ci dice l'oroscopo. Ariete, il mondo oggi sembra sorridervi a tratti, un giorno discretamente fortunato. Toro, se vi piacciono le cose complicate, presto sarete accontentati. Cercate di restare con i piedi per terra, in tutto e per tutto. Gemelli, Giove incrocia Saturno nel vostro cielo, lasciando che l'ottimismo vi prenda per mano. Cancro, dati di fare di più, perché con la forza di volontà riuscirete a superare un ostacolo che sembra quasi insommortabile. Leone, una buona giornata in cui Marte vi farà sentire la sua speciale protezione donandovi una grinta inaspettata. Vergine, se vi vengono riportate critiche da parte di alcune vostre amicizie, non trascurate oggi la cosa. Bilancia, oggi come ormai è comunque necessaria una calma e ponderazione e non lasciarsi comunque andare a scelte avventate. Scorpione, un acquisto costoso ti farà criticare e potrebbe metterti in difficoltà. Fai un po' di conti prima di spendere. Sagittario, non isolarti. Tutto quello che farai insieme con gli altri oggi andrà bene. Capricorno, stanchezza e nervosismo. Se puoi cerca di dormire di più, soprattutto domani mattina. Acquario, pettegolezzi sul vostro conto. Vi siete esposti troppo negli ultimi tempi. Pesci, oggi portate tanta pazienza in ogni questione. Avete Marte e Mercurio che non favoriscono comunicabilità. Questo è tutto, al prossimo appuntamento con l'oroscopo. Grazie a tutti. 城стcie, guard Итак, guardi la energia europea. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti